No, 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 poliziotti in amore. Dovresti pensarci, tenente, lo fanno gli uccelli, lo fanno le api, gli assassini. Neanche i poliziotti. La detesto. Pronto? Ah, signora Stedler? Sì? Salve, sono il tenente Gentri, dovrei parlarle, ma... Mi dispiace, non posso dire certe cose al telefono. Mi chiedevo se magari potevo passare da lei. Sì, venga pure. D'accordo, grazie, arrivo subito. Bene.